NAPOLI PER NAPOLI Abbiamo fatto insieme con le municipalità i siti da manutenere nella giornata odierna. Qui nella municipalità tre abbiamo individuato Piazza Cavour, poi c'è Piazza Garibaldi, nella cinque ci sta Piazza Medagliatore e così anche nelle altre dieci municipalità. E' un progetto che ci deve vedere tutto unito, una splendida giornata che ci anticipa la primavera e mi auguro che nelle prossime edizioni possa essere accolto con maggiore entusiasmo da parte di tutti i cittadini. C'è in corso un piano di recupero che vede la condivisione con tutte le partecipate del Comune di Napoli e con la piena condivisione ovviamente con il Presidente della Municipalità del recupero completo di tutta Piazza Cavour. Restituire una volta per tutte questa importante area alla comunità, un'area che ha visto nei decenni passati una frequentazione anche e soprattutto in alcune occasioni come le prime comunioni che si veniva qui per fare una foto ricorda. Ecco noi vorremmo ritornare a quei tempi.